Bella a tutti, qui è Trifest che vi parla e per chi non lo conoscesse questo è Hearthstone. Quello di cui voglio parlare però è la modalità battaglia. Vi ricordo esserci già stato il gioco di Hearthstone come carte collezionabili uno contro uno. Questa volta invece avremo la possibilità di scontrarci contro sette avversari. Il gioco è molto simile a TFT, la modalità di League of Legends, che vedeva per l'appunto l'utilizzo di mostri uguali e cercare di creare copie più potenti con la fusione di questi mostri. Ci tengo anche a precisare che il gioco non sarà più un pay to win, questa volta potremo giocare tranquillamente senza dover pagare per potenziarci. I mazzi non appena entrati all'interno del game saranno completamente uguali per tutti quanti. Gli eroi saranno randomici e anche i mostri saranno randomici, quindi sarà alla nostra fortuna e alla nostra bravura cercare di mischiare il tutto e creare delle combo davvero potenti. Anche questa modalità prevede quindi l'utilizzo di questo meccanismo per poter generare mostri più potenti, solamente che questa volta potremo partecipare con i nostri amici in una competitiva di 8 persone, noi più altri 7. Per questo motivo vi invito a giocare con noi se vi serve, ci sono tutti i link sotto in descrizione. Come sempre grazie della visione e ciao a tutti. Grazie. Grazie.